Per questa ricetta serviranno 300 grammi di pasta formato con chiglioni, 400 grammi di patate lesse, 80 grammi di mortadella a fette, 150 grammi di stracchino, un ciuffo di prezzemolo, pangrattato quanto basta, 200 ml di panna da cucina, sale e pepe quanto basta. Inizio la preparazione sbucciando e schiacciando le patate. Unisco lo stracchino e la mortadella tagliata grossolanamente. Mmm che buon profumo! Aggiungo il prezzemolo tritato finemente, insaporisco con sale e pepe quanto basta, amalgamo per bene tutti gli ingredienti. Faccio cuocere i conchiglioni in abbondante acqua salata. A due minuti dalla fine della cottura scolo e lascio raffreddare. Riempio ogni conchiglione con il composto di patate. Adagio su una pirofila di coperta di panna da cucina. Spolvero il latto aperto con il pangrattato. In forno, in forno statico e preriscaldato a 200 gradi per circa 15-20 minuti. Cari amici, questa è una ricetta semplice ma allo stesso tempo molto gustosa. I conchiglioni, i ripieni e gratinati sono buonissimi. Buon appetito! Ciao a tutti amici!